Dopo l'ultima intervista con il vicepresidente nazionale e presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Gaetano Curcio di Ispica, professore Maurizio Fransò, ci eravamo lasciati con la promessa di rincontrarci ai primi di settembre per darci le ultime novità, i chiarimenti dell'ultima ora per quanto riguarda l'apertura del nuovo anno scolastico e non solo. E noi abbiamo mantenuto la promessa. Tra le famiglie, gli studenti e il mondo scolastico c'è la comprensibile preoccupazione, l'attesa infinita e la tanta ansia. Ascoltiamo quali sono stati gli argomenti e la parola del dirigente scolastico dell'Istituto Curcio, professore Maurizio Fransò, nell'intervista rilasciata alla nostra emittente, al microfono di Piero Giunta. Allora, presidente Maurizio Fransò, quali ulteriori chiarimenti ci sono, se ce ne sono, rispetto a quello che ci siamo detti nell'ultima intervista? C'è stata venerdì scorso una riunione in prefettura a Ragusa. Cosa è emerso? Carissimo Piero, grazie per questa opportunità e un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Dall'ultima intervista non abbiamo grandi novità. Non abbiamo grandi novità, c'è stata una riunione in prefettura la settimana scorsa, ma noi come categorie sindacali non siamo stati invitati. Quindi su quella riunione non c'è dato da sapere, non c'è stato fatto sapere, non è trapelato nulla. Quello che è certo è che noi stiamo attendendo ad oggi ancora l'organico e l'ampliamento dell'organico e quindi praticamente non siamo ancora nelle condizioni di poter capire come affrontare l'anno scolastico perché ancora manca qualche altro tassello. Dovremo aspettare sicuramente qualche altro giorno, quindi magari fra un paio di giorni, Piero, su questa domanda voglio rispondere con più elementi a disposizione. Entriamo nello specifico, Preside. Parliamo della nostra realtà scolastica, territoriale. Ispica con l'Istituto Curcio ha un bacino notevole di studenti non solo espicefi, ma provenienti dai paesi limitrofi, Rosolini, Pozzallo, Modica, Pachino. Quali misure si adotteranno perché gli studenti in figurezza possono frequentare? Ci sono aule a norma di figurezza sufficienti? So che l'amministrazione comunale ha messo disponibili i locali dell'antenna. Bastano. Dal suo osservatorio come vede la situazione? Sì, Piero, entriamo nello specifico. Parliamo della nostra realtà scolastica, territoriale. Parliamo dell'Istituto Curcio. Noi ci stiamo organizzando affinché gli studenti, per gli elementi che noi abbiamo, possano lavorare dal 14 settembre, ma pur tuttavia non tutte le classi sono sufficienti per potervi allocare gli alunni nella loro totalità. E quindi molto probabilmente a rotazione, con un sistema graduale, qualche studente rimarrà a casa, si collegherà a distanza con le attività didattiche che faranno a scuola. Ma questo sarà ben spiegato loro nei primi giorni, perché molto probabilmente nei primi giorni invece li ospiteremo in modo tale da dir loro come ci stiamo organizzando. Faccio un esempio banale. Una classe di 22 alunni, probabilmente, di questi 22, 4 rimarranno a casa e 18 in classe, a rotazione. Assisteranno quindi alle lezioni magari non tutte le ore, le 6 ore giornaliere, magari solo a 4, ma sarà tutto pianificato dal Consiglio di classe. Ci stiamo organizzando in tal senso perché non abbiamo quel tassello di cui dicevo prima, cioè l'organico e l'ampliamento dell'organico. Se avremo, quando avremo il dato definitivo, quindi fra qualche giorno, ne sapremo di più. Quello che è certo è che tutto deve essere, diciamo, vissuto con serenità e tranquillità. Sì, l'amministrazione comunale ha dato la disponibilità dei locali dell'antenna, però, scusami Piero, ma questo lo devo dire, dopo 8 anni o di più di disuso, non è che noi abbiamo trovato i locali dove immediatamente dopo possano entrare i ragazzi. Hanno bisogno, diciamo, di alcuni interventi. Ci stiamo lavorando, li stiamo programmando, però i tempi sono quelli, diciamo, i tempi tecnici, quindi qualche altro mese per poterli usufruire. Quindi prima di dicembre mi sa che sarà difficile. Prefidi è l'ultima domanda. Da Vicepresidente e Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Prefidi, da dirigente scolastico di uno dei più prestigiosi istituti, qual è l'Istituto Curcio e anche da genitore, cosa è sufficiente di dire ai docenti, al personale non docente, ai genitori e agli studenti, insomma, al mondo scolastico esplicefe e non. Piero, per questa ultima domanda, allora, l'anno scolastico che ci attende sarà un anno sicuramente complesso, dove ci sono moltissime variabili in atto. Io chiedo a tutti, ai genitori, ai docenti, agli studenti, di avere, diciamo, davanti la situazione nel suo complesso, di mettere magari un po' da parte le aspettative personali e di fare questo sforzo perché la scuola deve riaprire, la scuola è fondamentale, deve essere data una risposta collettiva a quegli sforzi che hanno fatto quei camici bianchi che noi abbiamo ringraziato nel mese di febbraio, marzo, aprile, che erano in trincea e in lotta. E allora per questo noi tutti dobbiamo avere un grande senso di responsabilità, un senso di responsabilità che deve appartenere a noi genitori, deve appartenere agli studenti, deve appartenere al personale scolastico, deve appartenere a noi tutti, perché la scuola sarà, diciamo, il volano per una ripresa globale. Però su questo dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo seguire le indicazioni, dobbiamo seguire le prescrizioni, dobbiamo fare tutto con la massima responsabilità e la massima serenità. Così come, ancora una volta, da questa, diciamo, dalla radio, invito tutto il personale scolastico a fare il test sierologico, invito a farlo a tutti in modo tale che tutti quanti possiamo, diciamo, affrontare con serenità, quindi rivolgetevi ai vostri medici di famiglia per poterlo fare. Piero, noi stiamo lavorando tutti i giorni, incessantemente, un ringraziamento particolare lo devo fare al personale, a ATA, ai collaboratori, a tutti coloro che in questi due mesi estivi hanno lavorato incessantemente per cercare di mettere tutto in sicurezza, e noi siamo lì, siamo lì assieme alle famiglie e assieme agli studenti. Noi dobbiamo fare, appunto, ti dicevo, questo sforzo collettivo per onorare il sacrificio che hanno fatto quei camici bianchi, quegli eroi, quelle persone che nei tempi di febbraio e di marzo si sono veramente, hanno dato tutto per poter affrontare il problema. Noi non vogliamo che questo si verifichi e per questo massima responsabilità e massima serenità nello stesso tempo. Noi riapriremo il 14, già in questi giorni i ragazzi stanno venendo per rifare, diciamo, quello che viene definito, che è stato definito una ripresa delle attività per chi aveva delle carenze. Siamo qui, siamo a scuola e siamo pronti per iniziare. Grazie Piero, a presto. Ringrazio Maurizio Franzò, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.